Il colore è parte importante del successo dell'anificio dell'olivo, oltre ovviamente alle strutture fantasia. Noi presentiamo una collezione, credo, davvero molto interessante. Per un paio di stagioni abbiamo dovuto tenere nel cassetto i nostri progetti più belli. Oggi arriviamo con un'offerta arricchita di 15 nuovi filati, un'intera famiglia dedicata alla lana, insieme alla seta, sempre nell'ambito forte della sostenibilità, in cui l'azienda è leader nel numero di certificazioni acquisite. Grazie per la visione!